Assumendo in tal modo la definizione di guida. Armonia cosmica, secondo volume, franco lanari. Noi tutti abbiamo il perispirito, ma è in parte assopito secondo vari gradi evolutivi. Gli spiriti, quando compiono fenomeni fisici, utilizzano probabilmente pure il perispirito del medium. Lo stato cosiddetto di allo-coscienza, definito delta, che va da 0,5 a 4 Hz, è quando il medium diviene l'esclusivo tramite di entità spiritiche e sviluppa facoltà grazie alle quali si possono verificare apporti o asporti di oggetti. L'esistenza del perispirito sarebbe dimostrata dagli sdoppiamenti delle persone durante la loro vita, bilocazione, apparizioni a distanza, eccetera, o dalle apparizioni di individui ad altre persone al momento della loro morte o anche dalla comparsa degli stessi ad esseri umani dopo la morte. Essendo lo spirito immateriale, queste apparizioni avverrebbero mediante il perispirito che è semimateriale. Tramite quest'ultimo le anime dei trapassati avrebbero facoltà di poter agire sulla materia e compiere i fenomeni di medianismo allo scopo di dimostrare la loro esistenza e di comunicare con noi viventi. A proposito di queste manifestazioni spiritiche mi è stato dato di avere molte esperienze al riguardo attraverso medium di indiscusso valore che man mano descriverò. Quando gli spiriti sono già liberi del loro perispirito, per intervenire alle invocazioni dei viventi utilizzerebbero quello di individui che hanno facoltà medianiche. Si sa infatti che ogni medium asserisce di essere sotto la protezione di uno o più spiriti guida. Essi sono quelli che intervengono più costantemente. Si occuperebbero di compiere i fenomeni fisici e psichici e di chiamare altri spiriti assumendo in tal modo la definizione di guida. Grazie a tutti.